Enzo De Filippo, contitolare della farmacia De Filippo, sono socio con mia sorella Rosanna. La farmacia De Filippo è nata più di 50 anni fa con mio padre, in cui io e mia sorella siamo cresciuti e continuiamo a lavorare insieme ai nostri collaboratori. L'automazione della farmacia genera un ruolo importante per la gestione del magazzino, riallinea i tempi, salvaguarda gli spazi e crea maggiore redditività. Con l'introduzione del robot in farmacia il lavoro è completamente cambiato, si è riusciti a cambiare il modus operandi dell'attività, abbiamo ottimizzato al meglio tutto lo staff dando più servizi ai nostri clienti, tant'è che abbiamo inserito una nuova figura, una nuova figura professionale, quindi un'altra collega nel nostro staff. I collaboratori non perdono tempo a controllare la merce e da parte di noi titolari abbiamo un controllo di gestione totalmente diverso da prima. Il mio robot BD Rova è dotato di un caricatore automatico integrato completamente nella macchina. abbiamo risparmiato tempo sia nel carico sia per quanto riguarda la gestione delle scadenze. Le scadenze venivano prima controllate una per una all'arrivo dei prodotti, adesso il robot avendo un carico automatico e manuale viene fatto letteralmente dal robot. quindi diciamo che, come abbiamo già detto prima, gli scaduti sono notevolmente diminuiti. L'esperienza con BD Rova è stata ottima, grande professionalità, tutto questo confermato da tutti quanti, dal commerciale, dal marketing, dai tecnici e dal collaudatore. La farmacia di oggi non è più la farmacia di ieri, qualsiasi farmacista ormai deve essere manager, manager che l'azienda sia grande o piccola. Consiglierei sicuramente un robot Rova, oltre, come detto, per la sua grande professionalità perché la farmacia ormai è diventata la farmacia del futuro e non può essere farmacia del futuro però se non c'è il robot Rova.